Allora, io ho un bellissimo rapporto con i film e sulle tv, guardo veramente i film da quando sono piccolina, sono appassionata al mondo del cinema veramente da piccolissima, grazie a mio papà che mi faceva guardare i film di Totò, ho iniziato proprio così. Poi mi hanno fatto compagnia per tutta la mia crescita, sia infanzia, adolescente, insomma i film di tutti i generi mi hanno fatto diventare quella che sono, è una grande belletta quella che abbiamo, che è l'arte del cinema, meno male che ce l'abbiamo, ecco. Perché no, io sono più un'attrice di teatro, ho fatto un tour tatrale da pochissimo e l'abbiamo finito e mi piacerebbe certo addentrarmi anche nel mondo del cinema, che è un'arte completamente diversa da quella del teatro, ovviamente, sono due realtà. Penso che una volta che il tour e lo spettacolo viene visto live, ha bisogno perché no anche di una piattaforma, perché il mondo digital fa parte di noi, quindi perché no supportare il teatro attraverso la piattaforma come para un'altra classe, è bellissimo, chissà.